Tornate a trovarci ad affari a quattro ruote, ciao ciao! Ancora 169 anni per raggiungere la parità economica, 162 anni per la parità politica, 131 anni per le pari opportunità. Abbattiamo i muri, la parità non può aspettare. Carlo, Gerry, anche tu qui! Ah, sei venuto a fare la pubblicità? Oh, sei venuto a comprare un divano. Poi dopo i saldi, dopo i risparmi, sulla collezione 2, 50% di sconto più un ulteriore 20. Oh, 798 euro. Il relax lo senti subito. E anche alla penisola si fa sentire. 399 euro. Ma è vero che sono tutti sfoderabili? Sfoderabili e lavabili. Oh, Gerry, hai sentito che roba? 1190 euro. Gerry, guarda questo schienale a compasso. Guarda quanto spazio! E solo fino a domenica, promo flash. Sul resto della collezione la consegna gratis. Dopi i saldi, dopo i risparmi. Oltre alle sofà. Solo divani. Di qualità. Videogiochi leggendari. La più completa storia del videogioco. Tutto sui giochi della nostra vita in una collezione unica. Porta la tua passione a livello successivo. In edicola, primo libro Super Mario. Solo 2,99 euro. RBA. Tornata dal tour. Tutti da me? Ciao. Ciao. Come ho fatto? Dove voi fai? Ma la rete ci regge tutti? Regge, regge Sky Wi-Fi. Al massimo sono io che mi reggo. È più bello tornare a casa con Sky Wi-Fi. La rete fissa più stabile d'Italia secondo Ucla. Chiamaci all'141, vieni su sky.it o nei negozi Sky. Oh. Che ne dici di una scintilla d'ispirazione? Oh. Facciamo camminare questa cosa. Taraaa. Vediamo che mi dici di questa. Sì. Sali di livello in Forge of Empires. Gioca ora gratis su foi.tv o scarica l'app. C'è l'influenza da principessa e il raffreddore hard rock. Vivi in C agisce rapidamente contro il raffreddore e i primi sintomi influenzali. Per i tuoi EC puoi provare Vivi in C. E poi c'è la febbre del venerdì sera e i dolori stellari. Vivi in Duo agisce rapidamente contro febbre, congestione nasale e dolori influenzali. Vivi in Duo e puoi tornare a fare il tuo. A casa mia il caffè è un piacere. Vuoi anche tu l'espresso come al bar. 800 585 586. Con 49 euro riceverai 120 capsule. E la macchina non la paghi. Con Che Amor di Caffè l'assistenza è garantita. E per te la macchina del caffè non sarà più un problema. Chiama subito il numero verde gratuito. 800 585 586. Che Amor di Caffè. Un mito intramontabile, Iveco Turbo Star. Costruisci il re della strada in un grande e inedito modello, completo di rimorchio telonato. Cabine e meccaniche ispezionabili, spettacolari in ogni dettaglio. Prima uscita solo 50 centesimi, in edicola o su Ascet.it. Scopri con Luca Traina i segreti di un macchinario incredibile. Finalmente sono alla guida di una idrofresa. Mezzi speciali forgiati su misura. I nuovi episodi in prima tv assoluta. Lunedì alle 22.15 su Motor Trend, canale 59. I nuovi episodi è un ottimo. I nuovi episodi in prima tv. Iscriviti al nove. Capere il filmo su Convergio. I новi episodi in prima tv. Adesso ci sono i giornali di un nuovo test. Il ict% di mangiare di un nuovo test. Sono i giornali di un'im COMEDI. Creare di un nuovo test. Acerta una volta in un'provogee un'economia. Grazie per la visione!